Musica Dicevo oggi specialmente ai vostri gruppi Ci diamo e vi vogliamo vedere che vi state divertendo E che state praticamente su un pezzo, ok? Musica And I see my family every month I found a girl my parents love She'll come and stay the night And I think I might have it all Quindi una volta che facciamo tutte e prepariamo And I thank God every day For the girl he sent my way But I know the things he gives me He can take away And I hold you every night And that's a feeling I wanna get used to But there's no man The man is terrified Is the man who stands to lose you Don't take Ok I got three Due Una Sì And that's a feeling I want you I want you I need you Don't take This beautiful thing that I've got Ciao, benvenuti Vi faccio vedere una cosa Guardate Vi mettete in posa? Pronti per Pinocchio? Saludate, saludate, saludate L'attività che mi piace è quella dell'Academy Perché abbiamo deciso sempre di investire e comunque di credere all'interno dell'Academy Il mio augurio è che questa esperienza possa essere un'esperienza importante della vostra vita In bocca al lupo e speriamo di vederci all'interno di una delle nostre strutture turistiche Vivila, non fartela raccontare Ballerina, avanti Signori, i ragazzi sono carichi, sono emozionati, si sono impegnati tantissimo Non è vero niente No, come? Fate con Dio le provo, ci uccidigio Ragazzi, vi facciamo sentire il nostro calore No, no, non fate nulla Non hanno fatto nulla questi Non è vero niente Sìììììì!